buongiorno buongiorno siamo alla fine di novembre è mai arrendersi vai 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 avanti avanti siamo a estale l'ultima volta ragazzi è l'ultima volta poi dopo tutta la neve c'è nelle montagne si comincia ad andare a ciaspolare e vai avanti avanti guarda quanti fungaioli che c'è stamattina dal buongiorno ciao sandrina buongiorno 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 bellina ma come ragazzi tesorina l'è finita non ce n'è più dei funghi potrebbe essere potrebbe essere sorpresa ciao ragazzi ciao ciao avanti avanti che tremende ragazzi si sono arresi via si sono arresi zero macchine zero 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 inizia a sciccare e la neve l'abbiamo a qualche centinaio di metri vedete avanti 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 eccoci eccoci ragazzi alla quota neve vedete qui è la prima guzzatina di neve che troviamo avanti 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 mai arrendersi il freddo si fa sentire matto guardate qua che bello vento freddo neve madonna ragazzi mai arrendersi ragazzi mai 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 avanti 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 ci troverà un fungo ghiacciato ci troverà un fungo ghiacciato ci troverà un fungo ghiacciato chissà io lo dico di no guardate qua la cacchina di lufo gli ha mangiato il cinghiale mamma mia questo è la costa avanti 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 ragazzi ma secondo voi ma secondo voi un fungo ghiacciato che ci sarà oh no ma sarà davvero non ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere sicuramente quello è congelato a boccano però si va a cercare oggi qualcosa di genere avanti 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 matto questo e questo potrebbe essere chissà non si rompe la pelle da quanto è ghiacciata questo potrebbe anche essere mangiocchiato lasciamo fare avanti avanti condizioni proibitive alla ricerca ragazzi di fungo sotto la neve ho visto aline che l'ha trovato bravissima ma qui la vedo dura vento ghiaccio freddo chissà come si dice matto 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 guardate bellezza però che c'è qui guardate mi dà qualità ma che bellezza mamma mia mano ma panorama suggestivo c'è passato è solo i luci e gli animali mamma mia mamma mia mamma mia matto 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 avanti 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 che ci ferma avisat sarebbe perfetto vedete ci sono degli abesi misto faggio siamo quasi su un crinale cosa 1400 metri 1420 potrebbero esserci in senso che vedete qui ci sono gli stapeti chi è che ci dice che non ci sia un bel fungo come quello trovato sabato di un chile e due mi sa che quello è stato l'ultimo della stagione però come si dice mai a rendersi ragazzi è mai 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 avanti 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 si trova un fungo sotto la neve ora si trova ora si trova ora si trova l'acqua di apetice vai 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 vedete sono le orme dei daini forse anche un cerbiatto e qui hanno hanno scavato per trovare un po forse qualcosa da mangiare guardare pazzesco bellissimo bellissimo silenzio della montagna oggi è fantastico esiste avanti 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 vedete anche diciamo sotto gli apeti questi sono apeti guardate ci è arrivato la spolveratina di neve il ghiaccio e quindi è veramente improbabile i funghi dell'altra volta erano perfetti integri perché ancora non era gelato e qui invece adesso è tutto veramente veramente aperto da questo tre centimetri di neve di ghiaccio ma non si demorde avanti 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 matto guardate un fungo alla neve si è trovato eh oh e un son buoni però guardate che bellezza guardate che bellezza matto mi diverto anche un po' eh matto 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 e vai avanti 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 bisogna dirottarsi verso il mare ora si va a fare qualche uscita in maremma eh vi può vedere presto avanti 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 un saluto dalle nostre montagne innevate e ragazzi non si fa sbagliare la strada guarda quando ci fanno una freccia bellina così eh guardate un po' avanti 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 guardate qua il paesaggio favoloso guardate qua wow le ultime foglie ragazzi le ultime foglie di un autunno interminabile guardate qua ah eccola lì la pianta eccola lì eccola lì hanno resistito hanno resistito quelle foglioline lì e vai ho provato a riscendere un po' sotto la soglianeve e ghiaccio per vedere se magari qui è rimasto qualcosa però la sensazione è che veramente ormai ci sia ci sia proprio alla fine alla fine della stagione ragazzi stagione interminabile bellissima sapete cosa quasi 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 può mangiarmi un bel piatto da quelle due signore di stamani mattina magari c'è il luchino una bella fritturina invece quindi si fa mare monti e mare ottima idea ottima idea chissà 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 no però l'idea però l'idea di andare al ristorante non è male anche per riscaldarsi a tutto il tuo freddo vai 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 ultimo giro e poi via l'appostamento fisso di caccia ma guardate che bellezza è questa montagna guardate la bellezza mamma mia mamma mia eravamo su sopra cosa neve faboloso 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 la mattina uccic carbono cómo e vabbè mannaggia ho preso fame avanti 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 via se si scelta un po' di livello e cosa si trova guardate una pescia rendetevi conto questa è una vescia ghiacciata una vescia che ancora si prova a nascere per il bollore del terreno siamo arrivati a novembre con una vescia di nascita ma vi rendete conto voi incredibile un'osa incredibile veramente quest'anno è stata un'annata particolare molto particolare molto particolare un fungo si è trovato un fungo buono ed ipile si è trovato avanti 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 ragazzi mai mollare mai 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 ora ci tocca una bella fritturina e un bello scogliettino e da mangiare che tu ci dai oggi fa fatta grazie perfetto il turina e il spaghetto avanti avanti non si è trovato a funghi però ragazzi guarda grazie grazie non si è trovato a funghi però insomma io mi chiedo di portare meglio guarda va guarda va avanti avanti a un frittino vai non si muoio di fame oggi non si muoio di fame grazie crostata all'albicocca alessandra fa buon'altra risposta mai luchino tocca a noi come dice il sbagliatore forza amore domande sempre nelle palle di fuoco dalla mattina alle 4 alla sera ragazzi ciao un abbraccio aspetta può salutare l'alessandra perché ciao ale sempre avanti avanti ciao 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 luino